Stasera il miglior chef italiano di Parigi non sta in cucina. Si è appena accomodato in sala a Don Vincenzo. Gli unici clienti di un ristorante italiano all'estero vorrei fumare una sigaretta. Sono gli italiani. Uno sguardo non mente mai, no? A me la carbonata mi piace che la pancetta. La pancetta! Senti le bestemmie! Non ce va né parmigiano né pancetta. Il personale del locale è formato da un cameriere in cerca di sottane. Vado a fumare, se mi cerca le principali tu non mi vedi da voi. Un imbranato uscito dall'alberghiera. Ha intenzione di rimanere tutto il tempo all'impalato. Mi sembrava brutto andare via. E da una donna. Forse Messia preferisce il nebbiolo. Scelta ardita ma quasi mai sbagliata. Non riesco a togliermi dalla mente il suo profumo. Ma lo sai perché a me vi piace la carbonara? Perché ogni volta è una corsa contro il tempo. E anche il migliore chef italiano a Parigi può topparla se non rispetta i tempi. Guarda che bel casino che ha combinato, va. Ma riescivamo a andare a meglia con il sushi bar. Lo sai perché mi piace il vino rosso? Perché quando lo assapori ti lascia sulle labbra un ricordo. E quel ricordo ti fa venire la voglia di assaggiarne ancora un sorso e poi un altro, un altro ancora. Andiamo a Laura, forse. Dai. Sì. Dora. Sì.